Il formaggio monteveronese viene prodotto nella parte nord della provincia di Verona, una zona montana e sono dei percorsi e delle zone molto adatti anche al turismo a cavallo, soprattutto turismo a cavallo, passeggiate, mountain bike. Siamo qui a portare, a far assaggiare questi prodotti che poi si potranno ritrovare all'interno di questi percorsi, visitando caseifici eccetera.